Francesco vuoi parlare di Porto Alabe? Cavallo che ha corso sette o otto carriere Porto Alabe è il classico cavallo da piazza, cioè non delude mai chi va a montarlo, va a montarlo sempre molto tranquillo perché è un cavallo che ormai legge e scrive e diciamo che gli è mancata anche un po' di fortuna perché è un cavallo che per me il palio lo può vincere in questi gruppi di cavalli un po' più livellati così Tettia l'ha scelto, sicché ha fatto una riflessione e vede che quel passo in più forse ce lo può fare io credo che l'accoppiata è giusta, credo che possa fare un bel palio Grazie a tutti